Mister Zichella, la buona notizia è che il Teramo almeno in zona gol si è sbloccato. La cattiva è quel gol subito dopo il vantaggio. Sì, di fatti quando abbiamo fatto gol ho pensato, oh finalmente, non stiamo facendo benissimo come le altre due partite e forse riusciamo a portare i tre punti a casa. Continuiamo a fare delle ingenuità, dovrei ripetere e dire che oggi giocavano 5, 6, 7 giovani e qualche ingenuità c'è, però adesso dobbiamo eliminarle. Siamo già alla terza, se arriva un cross dal fondo la devo respingere, la prima regola sulla calcio, in fallo laterale non in calcio d'angolo. In calcio d'angolo prendiamo la marcatura e prendiamo gol, è giusto che prendi gol e quindi non vinci la partita. In questo sono un po' arrabbiato. Altra cosa da salvare probabilmente è che questa squadra ha saputo soffrire nella parte finale in cui Limolese cercava la vittoria e ci ha dato anche vicino. Io non mi sento di dire niente ragazzi, devo essere sincero, con l'impegno, poi io ce l'ho tutta la settimana, oserei dire un po' da libro cuore che vivo per loro, nel senso che passo tutta la giornata a pensare come poterli aiutare. Quindi loro penso che questo lo sappiano, in cambio non c'è un calciatore che si risparmia di mezzo centimetro. Di questo li voglio ringraziare pubblicamente. Il tridente è completamente nuovo oggi, soddisfatto? Sì sì, soddisfatto perché l'età media non la diciamo, mi è piaciuto Fratangelo perché non era facile giocare contro Limolese che come avevo detto in conferenza stampa è una squadra che farà bene quest'anno, farà anche parecchi punti perché è una squadra quadrata dove gioca bene, sono organizzati e mi piace. Posso chiederle il cambio di Persia, ok era abbastanza scontato per Ranieri, Altobelli-Caidi per raggiungere i centimetri? Problema fisico, ha preso una botta dietro la schiena e mi ha chiesto il cambio. Cambio obbligati sono stati Persia che non ha minuti nelle gambe, Altobelli che ha preso una vecchia dietro la schiena e Fratangelo mi ha chiesto il cambio che aveva i crampi al polpaccio. Adesso subito in campo, di nuovo il Gubbio, non ci sarà tantissimo tempo, così come è stata per questa partita per prepararla? Non abbiamo tanto tempo per preparare la partita però ho dei ragazzi fantastici che sono sicuro che daranno di nuovo tutto e cercheranno di vincere per la prima volta in questo campionato.